Arriva la stagione delle piogge e con lei l'allarme di ghe negli invasi, un argomento sempre attuale o forse un'emergenza che si ripropone ogni anno. E a questo proposito l'ingegnere Franco Greco, commissario straordinario dei consorsi di bonifica, annuncia la creazione di una task force da lui coordinata che si occuperà di realizzare uno studio del territorio e in 120 giorni localizzare le aree più adatte per la costruzione di nuove dighe in Sicilia, oltre al recupero dei vecchi invasi. E questo è stato uno dei primi argomenti che abbiamo trattato con l'ingegnere Greco. L'abbiamo fatto a giugno quando ancora doveva imperversare il periodo più caldo, quell'estivo, e quindi abbiamo parlato in maniera molto anticipata su quelle che erano le necessità di andare a lavorare sull'invaso delle acque. Arrivare oggi, in questo momento dell'anno in cui già le piogge sono abbondanti, non è mettere una pezza al problema, ma è, ancora una volta, trattare il problema con gravi ritardi. Perché questa task force, che è ammirevole comunque, perché partire già è un buon punto di inizio, ma partire nel momento sbagliato, questo determina un'incapacità di andare a gestire i problemi per tempo. Recuperare gli invasi esistenti significa andare a spendere delle somme veramente da capogiro, per cui, nell'idea dell'ingegnere Greco, vuole adottare, diciamo, la strategia di creare nuovi invasi, piccoli invasi, intorno ai 5-8 milioni di litri d'acqua di accumulo, e poterli creare lungo il percorso dei fiumi. Ma è un problema risolto per metà, perché è vero che abbiamo creato nuovi invasi, ma i vecchi invasi, via via, immagazzineranno sempre meno acqua. E se loro stessi non vengono drenati, saranno motivo di inquinamento. Perché questa task force non doveva nascere oggi a novembre per chiedere 120 giorni per mettere sulla carta dei progetti che arriveranno a marzo. Quindi questi sono progetti che guardano solo a lungo tempo, ma non vanno a risolvere il problema sulla questione attuale, dove praticamente ci sono le risorse di un milione di euro destinate al dissesto idrogeologico, ma che queste somme, non si sa che fine abbiano fatto, o perlomeno si sa, grazie al DRS 755, ma non sono andate nella direzione di salvaguardare quel personale che ne avrebbe dovuto usufruire.